Siamo ancora in compagnia di Carlotta Castelletti, ciao Carlotta, ieri abbiamo cominciato a conoscerti, abbiamo cominciato a presentare un po' il tuo lavoro, le varie sfaccettature di cui è fatto, hai fatto televisione, hai fatto moda, ci torneremo, ma soprattutto abbiamo cominciato a descrivere i tuoi meravigliosi quadri un po' enigmatici, un po' esotici anche dal respiro un po' esotico e ancora qui torneremo. Adesso però, come solitamente faccio, dedico la seconda puntata, il secondo incontro con il nostro artista alla sua esperienza biografica, perché è fondamentale per capire il contesto in cui è vissuto, in cui è cresciuto, il contesto che lo influenza poi e crea in questo modo il suo pensiero artistico, correggimi se sbaglio. Per cui vorrei farlo anche con te, vorrei che tu ci descrivessi un po' come hai trascorso la tua infanzia, in che ambiente sei cresciuta, tu sei nata a Torino? Sì, io sono nata a Torino, sono vissuta a Torino per 26 anni, fino a quando poi non mi sono trasferita a Vicenza. Diciamo che da bambina, sin da bambina ho così assaporato un po' già l'ambiente artistico, perché mio papà lavorava all'Arno Film, che era la parte cinematografica dello studio Testa, dove si giravano i caroselli. Quindi mia zia lavorava anche lei all'interno dello studio Testa, era direttore creativo, per cui io come bambina spesso giravo questi studi e respiravo un po' questo ambiente. E era divertente, perché anche se mio papà era molto contrario a farmi partecipare a qualsiasi tipo di carosello, lui proprio non voleva, diceva che i bambini dovevano restare a bambini, fare le loro esperienze, ma senza essere strumentalizzati per la televisione, per questi spot pubblicitari e commerciali. Quindi la vivevo un po' da fuori. Tu però avresti voluto? Sì, io avrei voluto tanto e gli dicevo sempre, ma no papà perché non mi fai fare un carosello? Perché tuo padre era così contrario al fatto che tu intraprendessi una carriera artistica, però lui ne faceva parte. Non lo so, perché poi ripeto, io ho avuto uno zio, cioè ho avuto, oh perché non è morto, povero, ma anche il fratello di mio papà è un professore di corno, ha lavorato al teatro, quindi insomma tutta la famiglia da parte di papà e anche da parte di mamma, comunque ci sono dei musicisti eccetera, per cui insomma un po' tutti così hanno contribuito a farmi conoscere l'arte, l'arte in senso generale. Io ero molto divertita perché mi ricordo che una volta sono entrata in questi studi e ho visto questo ippopotamo che veniva usato per la pubblicità della Lines, dei pannoloni quelli per i bambini e c'erano questi due personaggi dentro chinati a quattro zampe che camminavano uno dietro l'altro, quindi per me è stata una scoperta incredibile. Poi anni dopo, quando sono ritornata in accademia, queste cose si studiavano sui libri, cioè Armando Testa è ormai un personaggio conosciuto, il suo studio è uno studio molto rinomato, pubblicitario, è uno dei più importanti d'Europa e quindi queste cose che io ho vissuto sono diventate argomento di studio. Pensa quanto sono vecchia. Tu credi che questa contrarietà di tuo padre, della tua famiglia, intraprendere questo percorso ti ha fatto perdere molte occasioni, perché paradossalmente avresti potuto fare molto nella carriera televisiva, dato che comunque voi non voi avevi un grande aggancio. Allora, diciamo così, a me è capitato quando ero giovane, che facevo, appunto ero ragazza, avevo 15, 16, 16 anni fino ai 21, 22, ho lavorato anche come indossatrice, come modella, facevo i campionari, ho fatto delle sfilate, dei servizi fotografici, dei saloni. Mi sono molto divertita e anche guadagnavo. Questo secondo me faceva sempre parte dell'arte, cioè di qualche cosa che io avevo dentro, di un indole da esprimere, perché poi quando si sfila si sta comunque sul palco, si provano determinate emozioni. Però i miei genitori, diciamo così, che forse volevano più proteggermi dai pericoli che l'arte può provocare paradossalmente magari nella vita di una persona. Più che l'arte, forse il mondo televisivo, il mondo dello spettacolo. Sì, ma no, ma proprio forse avevano paura che io potessi trovarmi magari in condizioni di non avere un lavoro, di non essere indipendente, forse in questo senso più che altro erano delle paure e poi una mancanza di conoscenza, perché io ancora adesso chiedo a mia mamma, ma sai mamma, gli artisti, lei mi dice, ma gli artisti muoiono tutti di fame, quando invece non è vero, perché forse fare l'artista oggi come oggi è il lavoro in assoluto che fa guadagnare di più di tutti, certamente. Se lo fai. Se lo fai a livelli e arrivi ad essere qualcuno. Se guardiamo cosa guadagna un Jeff Koons o un Damien Eerst, ecco, cioè insomma voglio dire, chi è che guadagna quanto loro? Nemmeno i nostri politici, che già ne prendono anche fin troppi di soldi, per cui sì, ovviamente forse se mi fossi indottrinata molto prima magari potrei essere anche più avanti di dove sono adesso, ma io ti dico la verità, io vedo l'arte come, non come uno svago, come un gioco, per me l'arte è una cosa seria, cioè è un momento, in sanscrito si dice Ananda, cioè è un momento di beatitudine, no? Che arriva, un momento in cui il contenitore, che è l'artista, che io dico sempre che è legato a un filo d'argento a Dio, si deve svuotare, cioè arriva il contenuto nel contenitore e poi l'artista si esprime. È un mezzo, è un tramite l'artista, quindi, no? È un tramite l'artista, cioè io non sono niente, mi dà tutto qualcun altro. Quindi sei ancora, cioè sei dell'idea dell'artista come genio invasato, no? Sì, se tu mi dai una maletita in mano ogni tanto, io la prendo e dico, vabbè, ma non so disegnare niente oggi, neanche una mela, voglio dire, sì che ne ho disegnate a centinaia, ma non la so disegnare. Quando invece ho quel momento di beatitudine in cui mi sento che non sto né bene né male, è proprio un momento di mezzo, un momento in cui uno c'è ma non esiste, c'è, in quel momento c'è solo la meditazione, è una meditazione l'arte. È una meditazione, l'arte è amore per me, amore incondizionato, cioè è dare amore ed essere in contatto con Dio. Questo per me è l'arte. Quindi tu, da piccolina, hai sempre avuto questo amore, no? Per l'arte, dipingevi già allora? Sì, disegnavo, ero molto brava a disegnare, a cantare, ero molto buffa, posavo dappertutto, ero, insomma, ero abbastanza, sì, così, un po'... Hai scelto di fare il liceo artistico. Era un po' concentrica, anche se vogliamo, forse molto più quando ero piccola che adesso, perché poi crescendo certi lati si smussano. Invece, quando ero piccolina, magari erano anche un po' più evidenti. I miei non hanno saputo coglierli, forse se ci avessero visto meglio, li avessero colti. È come una mamma, quando guarda un bambino, su bambino, dice mio figlio, farà bravo a fare questo. Io sono certa che ogni mamma lo sa di suo figlio. Copira ancora verso questa situazione che non ti ha permesso? No, perché, cioè, se ci fosse stata dell'intenzione negativa, allora vabbè. Ma non voglio incolpevolizzare nessuno, anche perché poi ho fatto anch'io degli errori nel mio percorso. Cioè, oltre a questo, poi ci sono stati anche dei momenti in cui magari avrei anche potuto scegliere di mio, cambiare, magari impuntarmi e fare una determinata strada. Ma poi non l'ho fatto perché, avendo questi genitori dietro che poco mi spingevano, credevo forse anche poco in me stessa, nelle mie capacità. E quindi questo mi ha, sì, mi ha limitata. Tu hai detto di aver rallentato la tua carriera artistica per alcune vicissitudini familiari. Sono proprio queste? Sono legate? No, ci sono state delle altre vicissitudini molto personali, che non riguardano me, ma comunque la mia famiglia e che non posso divulgare. Però sono state molto importanti per me nella mia formazione e mi sono dovuta occupare di quelle e non di altre. Per cui non ho preso più una matita in mano finché questa situazione, diciamo, non sia in qualche modo risolta per me e per la mia famiglia. E dopo, quando forse mi sono staccata dalla famiglia, ho iniziato ad essere più indipendente, ho potuto riprendere in mano. E com'è stato quando hai ripreso? Eh, appunto, ti dicevo già nella puntata precedente che mi sono ritrovata un giorno a Venezia e io, così, avevo sempre questo sogno. Io comunque mi volevo laureare, io volevo comunque studiare, mi mancava questa cosa. Ero talmente spinta da questa passione che volevo entrare in questo posto, vedere com'era. E quando ci sono entrato ho detto, vabbè, c'ho qualche soldino da parte e mi scrivo. L'ho fatto subito, in un attimo. Sono entrata, mi sono iscritta, sono uscita e poi ho telefonato a mia mamma. E le ho detto, sai mamma, mi sono iscritta all'accademia. Quanti anni avevi? Dunque, 45, sì, no, 45. Ma già, ma lavoravi, facevi un altro lavoro? Sì, certo, lavoravo in un ufficio. Come facevi a gestire il lavoro e le lezioni frontali? Che dura la faccenda. Ma intanto ho sempre studiato di notte, nei weekend, ho anche un po', voglio dire, trascurato mio figlio nei suoi studi, perché chiaramente dovevo un po' pensare ai miei, quindi qualcosa a me dovevo anche dare, qualcosa dovevo anche togliere. E quindi lui si è un po' appoggiato di più al papà, che a me, infatti un po' me lo rinfaccia. Ma insomma è andata così. No, cos'è che mi avevi chiesto? Come conciliavi le due cose? Ah, come conciliavi le due cose? Eh, ho dovuto chiedere un part-time lungo, quindi mi ritagliavo un giorno alla settimana, andando però a lavorare di sabato, perché se no non avevo abbastanza ore a cui dedicarmi per il lavoro. E in quella giornata andavo a Venezia e in una giornata io facevo tutte le lezioni possibili e immaginabili, quindi in quel giorno dovevo fare tutto. Per cui sì, è stata una fatica. Come hai avvertito questa distanza tra, già ne abbiamo parlato, ma mi piacerebbe riapprofondirlo, tu allieva studentessa del liceo artistico, molti anni prima, e tu allieva sempre di un istituto ad indirizzo artistico, ovviamente l'accademia in questo senso, cos'era cambiato, oltre all'arte stessa, alle sue manifestazioni ovviamente? Ti dirò che forse ero cambiata io, perché alla fine prima ero una ragazzina, una ragazzina con tanti problemi, i problemi dell'età, i problemi dell'adolescenza, i problemi in famiglia, che tu non sai che bene che cosa vuoi fare, cosa farai, il tuo futuro, insomma. Dopo invece io mi sono avvicinata a questi studi, che ormai ero una donna, avevo avuto una famiglia, e quindi guardare forse anche questi ragazzi più giovani di me, perché c'erano del signore della mia età, ma è anche signori della mia età, però c'erano anche tanti ragazzi. E io dicevo, beh, tutto sommato devo dire la verità, non li invidio, perché, devo dire la verità, gli artisti maturi in età giovane sono rari. Quindi, ce ne sono, ce ne sono, ce ne sono di ragazzi che già hanno uno stile maturo, e già sanno, cioè già hanno formato, probabilmente hanno vissuto una loro storia di vita che li ha portati già a elaborare molto bene la loro tecnica e quello che vogliono esprimere essere. Io non ero questo tipo di persona, quindi anche quando sono arrivata lì, ho comunque poi dovuto fare un salto da dove ero rimasta all'oggi, no? Quindi ho fatto un salto nel futuro. E quindi è stata una corsa, mi sono messa al passo con i ragazzi praticamente, e quindi ho vissuto una seconda giovinezza, perché per me entrare in questa accademia è stato come entrare dentro un mondo tutto mio, entrare come in un luogo dove io mi rifugiavo, in un luogo dove mi esprimevo, e mi sentivo capita. Infatti da adulto ho avuto un rapporto con i professori molto positivo, perché poi sono persone che hanno più o meno la mia età, qualcuno un po' più vecchio, e quindi c'era una relazione ovviamente diversa da quella che potevano avere col ragazzo giovane. Quindi per me è stata una bellissima esperienza, e ho avuto modo di conoscere persone molto interessanti, professori con i quali sono in contatto ancora adesso, e anche bella, proprio dal punto di vista evolutivo. Quindi sei contenta di averlo fatto dopo, di avere dedicato a questa tappa questo tempo e non prima? Sì, perché quello prima non era il mio tempo, non c'era tempo per questo. Allora io vedo che hai indosso, e concludo qui, un bracciale, perché in realtà uno dei tue tanti, delle tue tante passioni, diciamo una particolarità, un'altra particolarità della tua arte a cui ti dedichi, è proprio l'oggettistica, no? Oltre alla scultura, ma anche proprio appunto l'oggettistica, perché decori i bracciali, i collane... Esatto, allora guarda, io raccolgo spesso dei sassi, quando mi trovo sulla spiaggia cammino sempre a testa bassa, questi sono i sassi di Carlotta, ne ho portato uno, te lo regalo, lo userai come fermacarte, fermaporta, non lo so, è un mio pensierino per te, naturalmente non ho potuto portarne altri perché pesano, ne ho uno al collo, questo è un esempio, è dublefassio... E anche il bracciale. E anche il bracciale, il bracciale è un esperimento che deriva da una mia ricerca sul plexiglass, sull'exam, sui materiali trasparenti. Carlotta, io purtroppo devo chiudere assolutamente... Ed è qua. No, se vuoi ci ritorniamo, lo spieghiamo, se lo riporti domani magari ne riparliamo. Sì, sì, va bene, d'accordo. Grazie mille, ti saluto qui, saluto il nostro pubblico a casa. Ciao a tutti, a domani.